Ciao a tutti ragazzi, io sono Gerardo e oggi siamo ritornati in un nuovo video qui su un fantastico gioco gratis horror con mia cugina Buongiorno Ho fatto tutta la presentazione bella e poi arriva tu Senti Dove sono e che cazzo lo so Chiedi a me, io sono appena arrivato qua E questo è il cerchio della vita? Il pisce Il pisce Devo trovare una via d'uscita Ehi frate Usa le frecce per muoverti Ma sono io questo? Non c'è qualcuno dietro di me No, credo che siamo noi Ok Apriti Come si interagisce con gli oggetti? Qualità alta Lingua, ok Vai sul punto interrogativo Tocca le frecce per esplorare No, vai sul punto interrogativo Punto interrogativo Vai sul punto, ok Tocca le frecce per esplorare la stanza Puoi trascinare alcuni oggetti Interagisci con alcuni oggetti toccandoli Ok Ora Tu come puoi non essere in grado di aprire una semplice Non lo so Andiamo Hello No Ho fatto inferno Ho fatto No, manca un'altra L Riproviamo Ma non sappiamo la parola Ma sarà in italiano o in inglese? Vai giù Spacca il vetro E chiudo là sopra Eh, mi piace la candela Oh, cazzo tu Usa gli oggetti dal tuo inventario Dobbiamo bruciare la... Tu capito? Perché c'è? Qua io già subito Spacca Eh, non voglio Vabbè, togli Eh, non riesco Prendi Prendi Non so Prendi Prendi Non posso, mi sa Vai Ma qua... L'orario del computer devo mettere Qual è? 12 e 29 Ma io l'orologio così ragazzi Spoiler Non lo so leggere Quindi non so Allora Allora 12 Dovrebbe essere questo Ok 29 Dovrebbe essere Questo e 20 E quindi dovrebbe andare verso qui Però no Non credo sia questo L'orario del Quello è così È soltanto 20 Vabbè Fa niente Andiamo avanti Eh Vabbè Questo è facile Gira Gira Non lo so Non c'è Mamma mia La casa delle cadere Il pesce Un coltello Basta Vai Andiamo avanti Torna Torna qui No vai là Ah ti ritorna Eh 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 Pesce No Eh Prova con Aprirlo con il coltello No io vedi come non ti apre Oh Enlighten me Aspetta Ma non è che è la parola Esatto Proviamo N Ah giusto All'imbruso E N N G No 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 Ma tu mi hai detto due volte Sorry Allora E N E N G E N G H Non mi ricordo L I T E N M I Sbagliato Controlla lì Non mi ricordo N Lig Ten Ah N Lig Ten N Lig Ten Sorry Allora N N L L I I G G H H T E N M E Una gomma Ah non sono dei fiammiferi Sorry Sono dei fiammiferi Sì Ma perché ste candele? Ah dobbiamo metterci le altre Vedi c'è le altre candele Ma sai ce la dobbiamo mettere accesa? Il pesce No No Perché il pesce? Il pesce Che ci fa con questo cuo? Ehm Questa cosa mi puzza Pura a me Brutto Prendi Ah Vai giù Vediamo che succede Non posso fare nulla Dovevo aprire quella Quella là Ma come? Prova quel coltello No No ci serve una chiave Ci serve la chiave Allora Sono dove qua vanno messa le conchiglie Stavolta Boh Non lo so Esci Sì Eccoci Cocchia No quello lo puoi prendere Mi spugno Sembra sto orologio Eh ma se faccio così Prima o poi Quello si chiede Perché lo devi fermare Vabbè vai Giù Eh ma credo che per ora Non ci interessa C'è un plankton Che bello Ma? Ma? Che cosa è sta cosa? Non mi è una cosa a tempo Lo so Per il momento lo lascio Sì infatti Qua giù Con Giuda Va tutti Venti avanti Vabbè tornati qua Non ci sono due conchiglie Eh? Uh C'è io Che c'è ancora questo Devi fermare su quella No termina Alfa Ma perché Non lo so Te lo giuro Non ho idea Perché non abbiamo trovato Nulla Eh mancano 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 Sì Sì Vada Grazie Ok Vuole No è stato un piacere Sì Ok va bene Tanto attenti Ti do fuoco No è impossibile Bisogna fare quella cosa È troppo complicata Sì Ah Sono cuore Express Io Cuore express Dobbiamo trovare l'ultima conchiglia Secondo me qua il pesce non ci va più Ci va il cuore Però Ci manca l'ultima conchiglia No ci vado a capire il pesce In questo momento No Fish Ma se usaci il fish con il plant No Quando non riesco Quando mi sclicco Ah Ah Se io lo lascio così Dopo un po' Vedi Ah Quando non lo clicchi bene È perché si muove È quello il problem Ah lo so È questo Come che devi fare No è troppo complicato Non so troppo Eh l'ho capito Puoi farcela Ok No Eh no Un Due Un Due Un Due Un Due Un Porco Giuda Non c'è mai troppo di fretta Ma quelli ritornano dopo un po' Vedete? No Eh per forza è l'ultimo questo È l'ultima cosa che dobbiamo fare Non lo so Dai vuoi farcela Qua non fa qualcosa Manina Vuole pesciolino Manina vuole pesciolino Gerard Gerard Ma è impossibile Provaci Dovrei Mettermi Non lo sei fatto No sto scherzando Lo so che non lo so fare Però almeno ci vorrei provare Full concentration Full concentration Perché muovendosi È un casino Se io capissi il punto dove vanno cliccate Passa troppo tempo Però ho capito Oh Chi da muore Sulla parte nera vanno cliccate Oh però io non clicco Cioè Ma sai che cazzo sono quelli che c'hanno l'ombra Cioè sto provando da me tu No ma non è possibile Non è Non è È proprio infattibile Cerca un gameplay del gioco Allo strattempo Cerca cerca Google Come si chiama? Samsa room Giusto? Mhm Samsara room Ok E intanto mi stacco da qua Cerco un altro mezzo Oddio Dovevi spacca saluti? Ma che senso? Cioè fammi capire Aspetta Riguardalo un attimo Aspetti Ti faccio vedere Ok no Ragazzi voi non fate finta di niente Devi premere tutti quelli che non c'hanno questo cerchio d'ombra dietro Ok no Questi due però non li ho cliccati No se sono ricomparse Hai riuscito vabbè Ok ce l'abbiamo fatta Alleluia Siamo tornati a Corrupted Soul Sono io? No Non credo Che ci serve adesso fermo? Enlightening Allora abbiamo usato il pesce Abbiamo usato il cuore Ci mancano questi quattro cose Il bambino Il bambino Però adesso abbiamo il pesce Che ci fanno il pesce? Siamo tornati qua Vedi il telefono No niente Niente più telefono Basta il telefono è finito Che ci fanno il pesce? Che ci fanno il telefono? No il telefono è finito Ti sprovo sempre a metto Il pesce Lo devi mettere No qua non c'è più niente Qua è l'unica Anche qui Anche qui Qua è sulla salatata Sulla? Sulla salatata Della l'uferta Sì Piesce a merda Non c'era neanche io Un tempo Bisogna che noi dobbiamo andare da una dimensione all'altra andiamo a fuoco alla pianta ci serve il coltello controlla giù? no qua non ci posso andare in questa dimensione posso andare qua forse giù no senti facciamo una cosa ecco qua ora noi ci serve ti diamo fuoco no ma mi sa che non puoi più riprendere il coltello eh il coltello mi serviva l'ho sbagliato ah forse devono corrispondere gli orari boh prova ho messo mezzanotto non ci serve Niente Vai, c'è Google, Google Ah Ma allora è ronco Ragazzi, se noi googliamo perché noi stiamo semplicemente mostrando questo gioco, non lo stiamo giocando Let it sink in Finalmente Quindi abbiamo l'acqua Possiamo Apri, apri, apri Barattolo Ma che ci facciamo? Dobbiamo andare nell'altra dimensione Ah, fa che? Ah, no, togli e mettici il barattolo Mettici il barattolo Ah, metto il barattolo Non lo so Lo smette i fiammiferi Non lo puoi Mettici il cuore Stavo andando senza nulla, mi sono preoccupato Che stavo per distruggere il globo Allora abbiamo preso da qua il vaso, no? Paura? Eh, mo quel barattolo cosa ci facciamo? Lascialo abbiare Provi a metterci la lucentola Eh, il gecko, sorry Sto Sto leggermente Ah, possiamo andare col gecko Porca di quella Oh, eh, eh Quanto siamo belli Eh, l'ho visto io a te, eh Una biglia Come si è fatto a riconoscere che era una biglia? C'è scritto Questa è la lucerta Dobbiamo metterci le buone E' fiammifero Ah Ma quanti fiammiferi ho di precessa? Ormai da più grande al più picco Cioè da più piccolo al più grande Biglia Biglia Ok Se facciamo un incin... Scusi Scusi Non volevo Ma è apologia Beh, giù No, ma non so Sono convinto Sti quadri tengono... Oh, oh Che cos'è? 3,55 Che cos'è 3,55? Eh, come si mette? Allora 3 è il numero romano 3 Vabbè, sì So quello più piccolo 55 dovrebbe essere 11 Così? Sì Un pochino più... Preciso forse 3,55 No Proprio preciso sopra Eh, non posso Vedi Ma non te lo metti? No Per il momento Lasciamolo così Qua Eh Siamo vandali Godo Carecca Ah Avevamo sbloccato l'inventario Vabbè, vai Giù Apri Di là Ah Qua A parte che c'è un'abbiglia Abbiglia? No No, queste cose le odio io Perché Ti odio tanto bene Perché mi fai questo? Non ti ho fatto nulla io Tipo una sorta di tetris Staro Sì Quello lì va là Questo va qua No, questo Dici? Eh sì Perché c'è stato il segno Ah Ma come si fa? Adesso Mettiamo questo qua, no? Io mo' sposto questo No Non posso farlo Però Sposto Ecco Ok E questo Lo sposto qua Ho fatto un macello Sì Eh 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 È esattamente così Aspetta Aspetta Questa è la supremazia universale I bambini Leggelando i libri Beh Deve essere tutto incastrato Perfettare Alle 4 e 55 Perché le 4 e non alle 3? Vabbè Metti alle 4 e 55 Eh sì Adi min Mettilo qua Eh però Non è giusto Sposta quello Vai Questo Quello lì Mettilo Questo qui Aspetta Ok Facciamo così E Manca Davvero davvero poco Perché ci riesca Di Sposto questo qua No Peggiorato Peggiorato Eh Intanto fai l'altro Ah no Aspetta Io voglio capire un attimo una cosa No Perchè Qui ci deve essere uno di tre No Ma di tre Quale c'è orizzontale? Cioè Qui Come Eh Mo ci deve andare quello verticale Ovvero questo O l'erovent E o l'erovent E questi Dove li metto? E quello è il punto Già Intanto fai l'altro Ma facciamo questo E se no rimane Facciamo l'altro Che se no Maria C'ha i problemi E Non mi uccide Nel sono Abbiamo ottenuto Chiave Triangolare Gerard Mi sa che dobbiamo andare all'altro Non possiamo per il momento Perchè no? Abbiamo solamente Ah no Abbiamo Quattro Abbiamo Abbiamo Uno Tre Quattro E qua ci metto Il cuore Il cuore Finalmente Non aspettavo Ah Ups Non aspettavi? Ditto Gecko Torniamo Che bello Siamo ritornati E Forse Qua Forse No Allora Tutto Facciamo così Poi Secondo Secondo Il genio In question Secondo Poi Facciamo Questa cosa qua E portiamo Quelli più grandi Dobbiamo mettere giù Ecco Così Secondo Il mio De sto parere Poi Qua così Secondo Sempre Il mio De sto parere E Poi Qua ci va Uno dritto E Allora Non lo so Questo Questo Non lo riesco A levare Metto qua Per il momento E Metto questo qua Poi Questo qua Poi Questo qua Questo Lo metto qua Poi Questo qua E questi due Li metto qui Che è successo No Oh Il libro Dove è finito Il libro E niente Però Dove Dove è finito Dove è essere libro Libro Ma non è che ce l'ho nell'inventare No Ok 0355 Però Però è 355 Non capisco Dice 4 Dai Torna Torna Da Quello del cuore Torna Al cuore Torno Al cuore Sì Torno Al cuore Tuttiamo Il gioco Mettiamo Il cuore Forse vedi Dove è Trovi altri Triangolini Lampi Invece Seed Of Sacrifice Seme Del sacrificio Il seme Del sacrificio Molto Utile E' bello Questo Yo Yo Samara Adesso Il cerchio Della vita Questo non me lo traduci Questo manco Ricordati Ah Ricordati Il tempo Uno sta Nell'uomo Uno sta Nel pesce Da dove Abbiamo preso Dal gecko Quindi Uno sta Qua E uno sta Dal pesce Il passato Non è mai morto Gli specchi Non mentono Indietro Indietro No Guarda quello Questo Allora Uno di così Uno qua Io non me lo ricorderò Mai Mai È vero Grazie Era tipo Così Sto Apri Verso Sinistra Fammi andare A vedere Ah ok Non questo Era così No O così Addirittura No Era così Vuoi vedere Credo di sì Prova a spostarlo Un pochettino Ok Chiave triangolare Una ce l'abbiamo Dobbiamo andare a prendere Il momento si avvicina Devi andare a prenderla dal pesce Eh andiamo dal pesce Ah però hanno detto Che gli specchi Non mettono mai Questo Ok Questo è il simbolo Del libro Ma qui non ci rimane Praticamente più niente Da fare In questo Nel realm Dell'umano Dell'uomo Andiamo dal pesce Un altro book Vabbè Vabbè Non così la rendete facile Questo È quello di prima Ok Quindi Ok Così No Così Più giù Ehm Non tirò sui due Quell'altro Oh ok Vado Il momento Che tutti Stavamo aspettando Direi più te Tutti Lo stavamo aspettando Tutti Tutti Stavano lì Ad aspettare Che io mettessi La terza L'ultima chiave Bato Che bello Ci do fuoco Usa il barattolo Che nudo Ah grazie Il seme ci serve Da dove l'hai preso Aspetta Sto seme Oh no Prova a metterlo Nel coso È nel Nel coso di cose E in quella Del pesce Probabilmente Dato che siamo Sott'acqua Non so Questa è una mia Filosofia Strana Stavo a fare Un mega episodio Dove non c'è Stai il vaso Qua il vaso Non ci sta proprio Vai giù Invece a quello Del gecko Sì Che bello È stata Una sorpresa Molto interessante Quella del tizio Sì Il tizio È stato molto Sorprendente No Qua Perché ha bisogno Di acqua Ma noi l'acqua Do la pigliamo Eh Eh Dal pesce Qua C'è questo simbolo Scusa Vai dal pesce Vedi se trovi Qualcosa dell'acqua Eh Sì C'è ragione Prova Scusami Specchio Ma se è un pesce Ci deve essere tutta acqua intorno No Non credo Prova Cosa guarda sopra Il tipo che vola Comunque la bottiglia Prova Prova a mettere Usala Usala Ma non è possibile Ma non è possibile Ma dove Quando Come È un pesce Quindi c'è l'acqua Il cuore o Persona No Il cuore Il cuore Il cuore Struggi Ok Che hai fatto Ora devi andare dall'altro Dal gioco Perché dall'acqua Venere Ah dall'alto Il tizio morto Fa sempre ridere Il tizio morto Fa sempre ridere Oh no Dobbiamo metterlo Su Pure Su Dove Ok La realtà Si è Distorta Particolarmente Una busta Vedi là Ah qua proprio Noi dobbiamo Cacciavide Cacciavide Noi qua Siamo proprio Minuscoli Si si vede Che c'è qua Il coltellino Ah ma è lui Quello è questo Quello là Quello che ci ha dato Il cuore Tieni zio Ah ma noi lo pensiamo Che tiene il book Grazie Guarda Ci tenevo Particolarmente Che cos'è Dobbiamo prendere Con il barattolo Eh ma non abbiamo più il barattolo Non lo spostiamo Oddio Oddio Ho capito Uno va qua Due Va qua Tre Sta giusta E quattro qui Non lo so Dei mettere in ordine Di quanti Abbiamo bisogno Del barattolo E che da muo Ah no Oh Qua non c'è Sta niente Che bello Entrare Nella Che bello Che bello Entrare nella bocca Del vecchio Io ho sempre desiderato Farlo Fammi togli il coltello Magari Facciamo un pecto Un pecto Spiegati Spiegati No è impossibli Non so dove No mi sembrava troppo complicato Ma sto petalo Vedi Col coltello Se col fiammifero Il quarto è la busta Il quarto è la busta Qua abbiamo già fatto No Stop No Aspetta Ho visto cose Ah no Pensavo servisse Oh Interessi Allora il quarto è la busta Abbiamo detto Prendi Il terzo è il gecko E il gecko Era questo Il secondo Era questo Sì Mamma mia memoria di ferro Ragazzi Memoria di ferro Che tengo Non li inventano No 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 Perché questo C'aveva tutte queste cose In bocca Vorrei sapere adesso Ma mi sa che io devo mettere Petali Eh ma ce ne abbiamo abbastanza No No Due ce ne abbiamo Ma perché questo Di una foresta In bocca Stiamo E appunto Ma davvero qua Non c'è niente È impossibile Non c'è niente Vai Vai a vedere Il telefono Forse c'è stato qualcosa E ora ce ne abbiamo il coltello Ecco Eh buonanotte Non c'ho niente Che faccio Oh Gesù Cristiano Ronaldo Impalato Buonanotte Che là c'è la batteria Questa arriva da qua Oddio Questa è complicata Deve arrivare So dove no So dove devo metterlo così Prova a toccare quello là Perfetto Ehm Il coso del micro Il coso del micro No perché deve arrivare Energia Non da questo Ma da Questa No 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 Aspetta 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 Cosa Aspetta Ci posso arrivare Ci posso arrivare Guarda Che così sono perfettamente collegati Ora Da qua Questo si deve fare Tutto il giro Non deve Passare da qua Ma Deve far così Ce l'ho fatta Sì Adesso qua Questo non ci serve Niente più Questo è il petalo Lo mettiamo qua Iniziamo a metterci anche l'uovo Dai A questo punto Ho paura di come diventeremo Quando saremo l'uovo Sì Molto Poi uno di loro è pure il bambino Ma il bambino è un nome molto vecchio Cioè secondo me il bambino sta solo a rappresentare l'uomo Cioè quindi il cuore No qua abbiamo già fatto tutto Ma non è che sta qua L'altro petalo Non è che se l'ha mangiato il tipo Non è che lo è Le vanno in parte Cioè Ok ok Ragazzi rimaniamo solo noi In questo episodio è lunghissimo Questo episodio è davvero davvero lungo Con tre petali Fuoco Dove provo a dare fuoco alle cose ragazzi Ahia mi sono fatto malissimo Nella vita vera Ah qua l'abbiamo preso Qua non c'è Qua pure l'abbiamo preso Qua non l'abbiamo preso E qua l'abbiamo preso Qua l'abbiamo preso Qua l'abbiamo preso L'abbiamo preso Non lo so Che ragazzi Se Noi l'abbiamo preso qua Allora Noi abbiamo preso a tre parti Il petalo No? Tre Uno qua E uno qua Ora Tra qua e qua Da qualche parte deve stare Per forza Fammi controllare che ci sia l'audio Ok ci sta Da qualche parte si nasconde Questa qua dentro E l'ha mangiata sto tipo Il video intanto di quanto sta Venendo è 43 minuti Bello lungo Ci metterà un bel po' Beh siamo sicuri che qua l'abbiamo preso Quindi la risposta deve essere qua Cioè tra poco La prima fila sarà occupata Dai Da tutti i co-host Come si chiamano qua I teleporter Diciamo Chiamiamo le cose E' un uovo per forza Qua c'è un uovo Che Io vorrei dare fuoco a questi Cosi di legno Bingo Mi dispiace andare avanti senza Mary Però Sì no La realtà è un po' distorta Qui c'è dovuto attaccare il pesce Il cuore La lucertola E il verme Non credo Ti do un verme Ti uccido Ti brucio l'alto Ti brucio la famiglia Dammi il petalo Ma ritorna Mary Mary L'ho trovato Cosa? E sono riuscito Sono andato all'uovo Do not forget your purpose Purpose? Vabbè sì He looked to the left And then he said You have to become something else Become enlightened Credo si lecca così Vabbè sì Comunque After the sole Is the evening Down came Mitrao The night time Air Ma sì Ce ne frega Fino a un certo punto Sera Notte Mattina Afternoon Pomeriggio 14 Nella notte E poi C'è questo Uno C'è Vabbè Sì C'è Per il momento Non sappiamo niente Perché l'uovo L'uovo sta in cielo Vabbè che devo aggiungere Il latte di terzo Ovo Ah Non credo Per il 12 Il 12 No No Vabbè Le due Sorry Le due Le due Le due Le precise Ma questa è due Le due Le tre Ecco No Niente Non Decalcolo No Mi vede C'è Ah Stavolta Qua Ma Sto Screanzato Come si Permette Allora Ripetiamo L'uovo Un attimo Che mi sa Che ci serve Ma c'è sto Scogliattolo Che io non ho Cagliato Che vuole Dunque Secondo me L'uovo Va messo Qua Scusate Non volevo Lo giuro Non volevo Mi Quello con la bocca aperta Il coso strano Quello normale Quello con la bocca aperta Cosa devo puntare a quelli con la bocca aperta E basta Cosa devo puntare a quelli con la bocca aperta Cosa devo puntare a quelli con la bocca aperta Cosa devo puntare a quelli con la bocca aperta La 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 cosa Qua Vabbè Comunque E basta Questo specchio Lo voglio rompere Ma poi ci sono questi due ganci Che io non ho capito Che bisogna farci Che non ci si può appende nulla Che non ci si può appende nulla Peso Peso 1 Non va messo a ca Il peso 1 Il peso lo metto un attimo al posto dei fiammiferi Che voglio capire Che voglio capire un attimo Peso 1 Niente Non capiamo Non si capisce No E' davvero 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 Difficile Bisogna far arrivare Notte Per Sì Poi qua l'orologio Sì Deputiamo Mi sentiamo L'orario Sì Rai Sì No Sì No io non ho capito questo qua con i uccelli Maria mi fa il favore google samsara rum li uccido i tu uccelli io vi brucio il nido io ve lo brucio vi do fuoco vi lancio nelle fiamme dell'inverno che ve possano uccidere voi e famiglia queste ragazze sono ovviamente paroline magiche e per il momento non c'è nulla dovrei mettere i pesi qua dai uccelli con i uccelli è con con la bocca, con la cosmo con? aspetta devi sentire questo fermo esci mi prendi? ok andiamo allora no, perché raga ce ne sono alcuni veramente che sono improbabili bocca ho bocca ecco poi ecco qua a posto mia mamma non capisce che stiamo registrando vai, vai ancora il content vabbè ragazzi ci fermiamo qui per questo episodio ci vediamo ad un prossimo video continueremo non vi preoccupate ciao ragazzi ecco